Buon successo di pubblico del quinto trofeo Italia del campionato regionale di kart nel circuito cittadino di Caltanissetta che ricordiamo ha attraversato le vie salvo d'acquisto dove sono partiti via Aldo Moro, via Palmiro Togliatti, via Don Minzoni. 80 piloti si sono dati in battaglia suddivisi per 8 categorie, 125 new entry, 125 tag, 100 amatoriale, 125 over 30, 125 top driver, 125 over 50, 125 interprovinciale e 125 day dove ogni categoria ha svolto 15 giri. Dopo le classiche verifiche sportive e due prove ufficiali di allenamento le gare sono entrate in scena con le prove cronometrate e nel pomeriggio sono iniziate le gare per poi concludersi davanti alle istituzioni cittadine con le premiazioni per i primi tre arrivati di ogni categoria. Un grande successo di pubblico e di partecipazione, sono stati 70 i piloti provenienti da tutta la regione Sicilia e in più dal Reggio Calabria, dall'Italia e da Roma. Quindi un trofeo nazionale che si sviluppa la prima volta a Caltanestetta, bel circuito, bel tracciato, sicuramente ci sarà un futuro non indifferente. Oggi qui siamo di casa, è veramente bellissimo il circuito, poi sono venute tantissime persone e siamo qui con il nostro team, S-Russo Motorsport, vediamo di fare bene. È stata una gara abbastanza impegnativa, il circuito era un poco sconnesso, però dopo ci siamo adattati e abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Grazie.